Ogni volta bisogna stare attenti a uscire con i mezzi, nel modo da non prendere le multe. Una volta si poteva sostare, ora, anche se non si poteva, però si faceva un po', ora bisogna stare attenti. Il periodo di preesercizio è terminato, ora scattano le multe. Da adesso, infatti, le telecamere posizionate nei nuovi varchi in uscita della ZTL del centro Aretino sono pronte a immortalare i trasgressori. Mi sembra giusto, per cavare un po' di traffico nella città, mi sembra giusto, se è obbligata l'entrata, perché non deve essere controllata l'uscita. Il transito all'interno della ZTLA è consentito dalle 12 alle 17 e dalle 20 alle 8 e 30, stesse limitazioni anche per l'uscita che dovrà rispettare questi orari. Per la ZTLB, invece, ha evitato l'accesso a tutti i non titolari di permesso, dalle 8 alle 24. Bene, meglio, anche perché vivendo qui in centro storico, spesso chi non è del centro storico viene a parcheggiare, quindi non c'è posto, caos, e poi è bello avere un centro comunque interamente pedonale. I nuovi varchi in uscita con videocontrollo sono sei, in via De Pileati, in Borgo Santa Croce, e poi ancora Padre Caprara e Piaggia del Murello, ed infine in via Isodoro del Lungo. Attenzione però anche ai due nuovi varchi in ingresso della ZTLB all'inizio di via De Montetini e via della Fioraia. Nulla cambia invece per i residenti. C'erano troppi furbetti? Eh ma sai, furbetti ci sono, non ci sono. L'importante è che ci sia un'idea di cosa si vuole fare il centro storico, perché è veramente bello. Grazie. Grazie.